E' un appuntamento importante che vede coinvolta la consulta dell'imprenditorialità giovanile della Camera di Commercio, l'ordine professionale degli architetti, degli ingegneri e dei periti industriali. E' sicuramente un evento importantissimo che vuole per l'ennesima volta sottolineare la sinergia tra professionalità degli ordini e territorio. La consulta dal 2008 parla di sostenibilità ambientale, parla di rispetto dell'ambiente e questo è uno dei temi che ci sta particolarmente a cuore. In questa manifestazione saranno presenti, oltre appunto agli ordini e alla consulta, tutta una serie di soggetti di questo territorio come il Comune e la provincia. Ma la consulta ha un ruolo importantissimo perché da anni ci facciamo promotori dell'importanza dell'energia sostenibile, dell'importanza che i cittadini conoscano quello che può essere il risparmio energetico, ma soprattutto come crisi e sostenibilità vanno di pari passo. Noi vediamo dai dati dei Union Camere che un'impresa su quattro ha successo quando parla di sostenibilità. Nel 2013 il 38% dei nuovi occupati saranno occupati nel filo verde della green economy e quindi questo ci deve far riflettere. Ci deve far riflettere non solo per salvaguardare il territorio, ma soprattutto per creare occupabilità e per dare uno slancio alle nostre imprese, con delle professionalità che sono sensibili al discorso della sostenibilità, ma soprattutto che siano in grado anche di comunicare questa sostenibilità ai cittadini.